Ciao a tutti e a tutte e benvenuti al 64esimo episodio di Cycling Chronicles. Io sono Giacomo Molini e sono uno dei conduttori di questo podcast. Dico uno dei perché nel prosieguo di questo Tour de Force, come abbiamo detto questa settimana, avremo tre episodi in uscita, c'è con me Vincenzo delle Donne. Ciao Vincenzo, bentornato e con te. Ciao, ciao, grazie. Come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Sego tutto lo spettacolo dei mondiali su pista di questi ultimi 4-5 giorni. Direi che è stato un grande spettacolo, uno dei più bei mondiali su pista di cui io abbia memoria sinceramente. Un sacco di prestazioni notevoli di cui andiamo a parlare proprio in questo episodio che è sostanzialmente dedicato alla rassegna, alla rassegna ridata nel velodromo. Nella rassegna ridata che si è disputata a Prushkov. Mi correggerai se sbaglio la pronuncia, tu che sei esperto e bravissimo con il polacco. Oddio, credo si dica Prushkov, però immagino vada benissimo anche la tua versione. Non ci mettiamo a fare i pignoli, dai. Dicevamo, rassegna ridata che si è disputata nei dintorni di Varsavia, in questa veniristica struttura che ricorda, come molti velodromi, un po' un'astronave che però non ha mai raggiunto stranamente, anche considerando il livello della pista polacca tutto esaurito nella cinque giorni e soprattutto rassegna che ha visto una pista velocissima. Ci sono state, come al solito, tante competizioni, ma si sono visti tempi di altissimo livello. Ti cedo da subito la parola su questo, introduciamo un po' il tema, poi dopo ne parliamo in maniera più approfondita man mano che svisceriamo tutto quanto. Prego. Beh, allora, direi che la prestazione del mondiale è stato il record del mondo dell'Australia nell'inseguimento a scuola. Non così, by far, rispetto a quello che ha fatto Filippo Ganna, che secondo me... ma in generale, oltre alla prestazione di Ganna, il livello che si è visto nell'inseguimento individuale. Sinceramente, a prescindere dal discorso relativo agli atleti italiani, che tu sai benissimo, per me è tutto sommato molto relativo. È veramente un peccato che questa specialità non faccia parte del programma olimpico perché, oltre al fatto di essere una specialità storica, è, a mio modo di vedere, una tra le più spettacolari. Purtroppo, non essendo più compresa nell'omnium, non la vedremo in alcun modo nelle prossime olimpiadi. Avrei anche difficoltà a dirti chi possa essere stato l'atleta dei mondiali. Io un piccolo suggerimento ce l'avrei su Jan Biel van Schip, per quello che ha fatto nella corsa a punti. Sì, sì, sì. Van Schip ha fatto una corsa a punti incredibile, ha scollinato la soglia dei cento punti, che in un mondiale è qualcosa di clamoroso. Però, sì, forse Van Schip sarà il gioca proprio con Filippo Ganna ed è un peccato che effettivamente l'Italia non abbia potuto esprimere le sue potenzialità nella gara a squadra per un inconveniente in fase di qualificazione. Un attimo di cronaca per contestualizzare quello che hai appena detto. Allora, parliamo di diversi... abbiamo parlato di diversi tipi di gare. C'è stato, infatti, in primo luogo l'inseguimento a squadra, quello del quartetto, questa sì che è disciplina olimpica, e l'Italia che era una pretendente credibile, credibilissima al podio, col senno di poi, viste le prove individuali e addirittura probabilmente pretendente alla finale, forse anche insieme a Australia e Gran Bretagna. Comunque erano queste le tre nazioni faro della disciplina insieme alla Danimarca. Insomma, non si è riuscita a qualificare perché c'è stata una caduta dopo una trentina di secondi di gara di Lamont, gli uomini del quartetto, che in buona sostanza ha compromesso la prova dei quattro ragazzi, giusto? Sì, non abbiamo immagini in realtà del fatto. Tra l'altro io ero rimasto abbastanza sorpreso dal 3.59 perché c'è stata anche... sei stato tu, tra l'altro, a dirmi, no, guarda che c'è stato un problema, perché effettivamente sembrava abbastanza inverosimile, considerando anche le prestazioni che l'Italia aveva offerto in Coppa del Mondo nei mesi precedenti. Sì, sì, immagini in realtà si sono trovate da un video fatto... Lì per lì non c'è stata la possibilità di avere un riscontro visivo dell'accaduto. No, no, non immediato, non immediato, esatto. C'era un video fatto con il cellulare, qui ringraziamo l'UCI che non provvede a produrre le immagini dell'evento per quanto concerne le sessioni mattutine. Perché è scandaloso, cioè il che è veramente scandaloso. Questo è inspiegabile. Non sono sessioni mattutine, non è in moto, però indicativamente le sessioni che avvengono più presta. Comunque, in semifinale e poi dopo si è già visto quello che sarebbe stato il prodromo alla prestazione di... una delle prestazioni, se no la prestazione di questi campionati mondiali, il record del mondo dell'Australia, del quartetto, perché in semifinale hanno stampato un 3-51, tempo che di per sé avrebbe già dell'incredibile, sarebbe un tempo di altissimo, altissimissimo livello. Se non che a questo va aggiunto il fatto che lo hanno fatto disunendosi completamente nel doppiaggio della Nuova Zelanda. Pazzeschi, pazzeschi, pazzeschi gli australiani. 3-48-0-12, che è un tempo clamoroso. Hanno asfaltato la Gran Bretagna in finale, dandogli tipo 3 secondi, qualcosa del genere. È veramente una prestazione clamorosa e mi pare anche doveroso ricordare chi sono i quattro che hanno vinto la medaglia d'oro, che sono Porter, Howard, O'Brien e Welsford, e hanno avuto la meglio di una squadra fortissima che la Gran Bretagna, che aveva un quartetto di livello assoluto. Terza è arrivata la Danimarca, che è riuscita a realizzare un tempo notevolissimo, 3-51-804, tempo che a detta di Villa sarebbe stato ampiamente alla portata dell'Italia e sinceramente non faccio difficoltà a crederlo, considerando poi le prestazioni che hanno offerto, oltre Ganna, che è arrivato a due decimi dal record del mondo di Lambi, anche Plebani, che ha vinto il bronzo nell'inseguimento individuale, e Francesco Lamont, che è arrivato quarto nel chilometro da fermo. Davvero è passato un po' sotto traccia questa prestazione, ma è una prestazione clamorosa, perché ha avuto la meglio di specialisti del chilometro da fermo, anche abbastanza nettamente. Ti fermo un secondo e ti dico, mettiamo ordine su quello che è avvenuto, era la giornata di venerdì, mi pare, quella in cui sono capitati tutti questi risultati, e poi anche tutte le medaglie per la spedizione italiana, ma questo magari ci arriviamo dopo. Comunque c'è stato un inseguimento, ci sono state le qualifiche dell'inseguimento in cui si sono viste delle cose turche, giusto? Sì, perché inizialmente è stato attribuito a Dominic Weinstein il record del mondo, ma un record del mondo frantumato, qualcosa di incredibile, se fosse stato effettivamente così, nella fase di qualificazione. Era stato attribuito un tempo di 4.05 e qualcosa? Sì, esatto, 4.05 e alto. Comunque 4.05, stiamo parlando di quasi due secondi al record del mondo di Lambi, che era stato fatto da Guascadiente. 4.05 che abbiamo ipotizzato potesse anche essere alla portata di Ganna se la gara fosse svolta in altura. Detto questo, poi il tempo di Weinstein è stato corretto a 4.09 e spiccioli, e dietro di lui Plebani ha fatto un 4.11 e 700, ora non ricordo. Comunque era un tempo che batteva di due secondi il record italiano di Ganna e dietro di lui è Tushenko. Esatto, così in qualificazione dal nulla. Lui e Tushenko e le Lambi sono comunque scesi sotto i 4.13. Ma poi ci sono stati anche, se non sbaglio, Archibald e Oliveira che sono andati sotto i 4.15. Cioè stiamo parlando di tempi che sarebbero valsi il podio praticamente sempre. Tra l'altro la finale Ganna contro Weinstein è stata la riedizione della finale che ha visto Ganna conquistare il primo titolo mondiale nel 2016. Comunque Ganna è sceso in pista con il primatista del mondo Ashton Lambi e ha demolito la concorrenza dell'americano e ha messo in piedi un tempo che a livello del mare è il record del mondo ed è un tempo veramente pazzesco. Il tempo è veramente pazzesco. Ganna che tra l'altro io sinceramente vedrei bene con Viviani nella Madison. Forse meglio di con Sonny. Però immagino che le dinamiche e comunque le gerarchie siano state stabilite ed è anche giusto così. Con Sonny che tra l'altro ha sfiorato il podio nell'Omnium. Con Sonny che si sta ben comportando su pista che probabilmente nell'Omnium lascerà spazio a Viviani in vista delle Olimpiadi. Per quanto riguarda il settore femminile ha un po' deluso in questo caso il quartetto femminile che si è collocato in quinta posizione abbastanza distante dal podio. Però Letizia Paternoster secondo me io dico ha fatto quasi un miracolo a vincere una medaglia d'argento nell'Omnium. Ho in mente la gara d'eliminazione in cui è riuscita in qualche modo arrivare terza ma secondo me davvero attingendo a non so quale tipo di energia. Era proprio stanca alla fine. È stata bravissima a difendere la seconda posizione tra l'altro andando vicinissima a Kirsten Wilde. Kirsten Wilde che sembrava inattaccabile fino all'anno scorso e che ora invece sembra poter essere alla portata. Kirsten Wilde che è una leggenda ormai di questo sport. Kirsten Wilde che comunque ha i suoi B37 anni. Sì, se un anno fa Kirsten Wilde era una aliena del settore endurance su pista, quest'anno si è limitata a sembrare colei che era nettamente più forte di tutte le altre. Forse questo è il modo più corretto di porre la questione. Per una Kirsten Wilde che comunque vince ma sembra meno dominante rispetto agli anni passati, abbiamo un altro olandese che fa il bello e il cattivo tempo. Perché quello che ha fatto Van Skip nella gara a punti è qualcosa di... come lo vuoi definire? Trovami tu un termine perché è veramente libidinoso direi, guarda, per dirlo alla Gerica là. Sì, è stato libidinoso, veramente. Tanto che dopo... cioè questo apre delle... apre degli scenari interessanti anche sull'omnium, sulla corsa a punti dell'omnium maschile. Comunque, fermiamoci alla corsa a punti se stante. Allora, la gara, per chi non lo sapesse, si disputa su 160 giri, uno sprint ogni 10 giri, giusto? Correggimi se sbaglio? No, no, pensavo fosse un'affermazione, sì, ovviamente sì. Uno sprint, dicevo, ogni 10 giri, i primi 15 sprint assegnano 5 punti, l'ultimo sprint assegna 10 punti, quindi in totale i punti che sono assegnati dagli sprint sono 95, qualora qualcuno fosse in grado di vincere tutti. È chiaro che se un corridore è in grado di guadagnare un giro sul resto del gruppo, cioè di andare in fuga e guadagnare tutta la pista di vantaggio sul resto del gruppo per correre così un giro in più degli altri, guadagna un bonus di... questo semplicemente per far chiarezza per chi non fosse al corrente di quali sono esattamente le regole e le dinamiche che regolano, accusato la ripetizione, questo tipo di prova. Ecco, 95 punti di disposizione negli sprint, Ian Bielman's Keep ha fatto più di 100 punti all'interno della prova al campionato del mondo, cioè è riuscito a guadagnare... in tutta la prova è riuscito a guadagnare tre giri, ma questo significa che comunque è riuscito a fare 44 punti, mi pare, con gli sprint sui 95 disponibili che sono un'enormità, considerando quanto si è speso anche per guadagnare i giri, un'enormità. La prova di Ian Bielman's Keep è stata allucinante. Ha vinto con quasi 30 punti di vantaggio sul secondo, secondo che ha realizzato 76 punti, cioè non so se mi sto spiegando, se non sbaglio ha conquistato 4 giri rispetto a... nel corso della gara. Tre. Tre giri. Tre giri, tre giri. Cioè sembrava un motorino dal carburante inesauribile, veramente... Era indiavolato. Era indiavolato, bravo, sì, è il termine giusto. No, tra l'altro nella gara a punti, un'altra cosa che è passata sotto traccia, lì a Bertazzo ha fatto una grande corsa, cioè è arrivato a podio ma correndo da protagonista, però in un contesto del genere in cui a un certo punto non si capiva niente, c'era gente che guadagnava giri a ripetizione, non è riuscito nonostante più di 60 punti a piazzarsi tra i primi tre. Sì, prova notevolissima di Bertazzo considerando che arrivava anche dalla caduta al Tour of Colombia e insomma non era esattamente nelle condizioni fisiche migliori. Comunque abbiamo detto di Ian Bielman's Keep e della sua prova. Questo apre degli scenari su quella che è stata poi la prova della corsa a punti all'interno dell'Omnium, perché c'era ancora Van Skip che in quel momento era mi pare quarto in classifica all'inizio dell'ultima prova dell'Omnium, c'era anche Simone Consonni all'interno di questa prova, lui ha finito quarto la gara e di fatto io non so se hai visto la corsa a punti dell'Omnium, tutti i corridori si sono messi a curare Van Skip, in particolare lo spagnolo. Gli ha proprio corso contro, o meglio, cioè non corso contro Mike, gli ha corso né più né meno che sulle ruote, perché evidentemente l'impressione che aveva destato nella corsa a punti era tale per cui tutti tenevano d'occhio solo ed esclusivamente l'olandese. Lo spagnolo Torres, giusto? Sì esatto, esatto, Torres. Sì, Van Skip che poi in realtà, e questo è stato forbiante perché Van Skip non è riuscito ad imprimere quell'impronta che era riuscito nella corsa a punti invece che assegnava il titolo e questo ha comportato che Stewart, Thomas e Eiter siano riusciti poi a monopolizzare il podio. Tra l'altro Consonni è arrivato quarto pur avendo conquistato un giro a poco dal podio. Torres nella corsa a punti ha conquistato forse tre punti, qualcosa del genere, comunque pochissimi punti. Eh ma perché si sono sostanzialmente cancellati lui e Van Skip. Esatto, esatto, esatto. Ed è stato in particolare il francese nel finale ad approfittarne, riuscendo a guadagnare un giro proprio nelle ultime, riuscendo a guadagnare il giro e quindi questi venti punti di bonus nelle ultime, nelle ultime tornate e insomma riuscendo così a inserirsi sul podio. Ha cacciato giù Consonni, un Consonni che comunque è stato veramente molto bravo in tutto l'Omnium. Ho riuscito a offrire prove di livello in tutte e quattro le prove del programma. Sì, posso dire una cosa sull'Omnium? Tutto quello che vuoi puoi dire su tutto quello che vuoi. Sono l'unico a preferire la vecchia versione rispetto a questa. Anche stavo giusto pensando di chiederti questa cosa, quale versione ti piaceva di più dell'Omnium? Partiamo da un preso. La Tempo Race non mi piace per niente. Lo Scratch secondo me è la gara che ha meno senso in tutto il programma su pista. Sinceramente di questo sono fermamente convinto. L'Omnium per come era strutturato prima dava un senso di completezza, un po' come il Decathlon.